Buongiorno a tutti, saluto le persone collegate e ringrazio il Presidente Gian Battista Baccarini per avermi invitata a portare il mio contributo di parlamentare europea a questo appuntamento così importante per il vostro settore, nel quale si parlerà inevitabilmente della direttiva Case Green. Come sapete ho potuto seguire questo provvedimento molto da vicino come relatrice ombra, prima nella Commissione Industria ed Energia del Parlamento, poi nella plenaria di Strasburgo e ora nel negoziato del Trilogo, in corso tra Parlamento, Commissione e Consiglio. Per la portata e l'impatto del provvedimento sui nostri territori, nella prima fase di discussione della direttiva ho voluto anche incontrare gli stakeholder coinvolti nel comparto edilizio immobiliare, proprio per mettere a punto delle controproposte di buonsenso da portare sui tavoli europei. Per questi utili contributi ringrazio in particolare Luca Simeoni che è stato un punto di riferimento degli agenti immobiliari nella provincia di Varese. Fin dall'inizio abbiamo messo in guardia Bruxelles sui pericoli di un provvedimento molto difficile da applicare soprattutto in Italia, dove le ricadute sui proprietari di casa, sulle imprese e sul mercato immobiliare si preannunciano pesantissime. Sono tante le questioni che preoccupano le categorie coinvolte dalla direttiva, ma vorrei soffermarmi su quelle che riguardano in particolare il vostro settore, come ad esempio il tema dei mutui ipotecari. Secondo l'articolo 15 della direttiva, gli stati membri dovranno infatti prevedere un sistema di mutui agevolati, i cosiddetti mutui green, per chi acquista abitazioni in classe energetiche basse. Sebbene a livello teorico siano necessarie forme di finanziamento che possano supportare l'efficientamento energetico, come avete chiesto anche nel vostro recente incontro con il Ministro dell'Ambiente, all'atto pratico i mutui green nascondono incognite non trascurabili. Questi mutui, che sono legati all'obbligo da parte dell'acquirente di ristrutturare l'immobile per efficientarlo, potranno portare di fatto alla perdita di attrattività e alla successiva svalutazione delle case che si trovano nelle classe energetiche inferiori. Gli stessi istituti di credito potranno trovare più vantaggioso concedere mutui solo per l'acquisto degli immobili nelle classi energetiche alte. Questo significa di fatto far saltare il sistema di accesso al credito nel nostro paese, ipotecando non solo le compravendite immobiliari ma anche il futuro di tante famiglie. Occorre quindi cambiare questa prospettiva, anche se purtroppo il negoziato che si sta svolgendo da mesi a Bruxelles è sempre più in salita. La questione dei Mutui Green è tra i punti all'ordine del giorno del prossimo trilogo convocato in seduta notturna ad oltranza per il 12 di ottobre. Si negozierà anche sulle nuove classi energetiche, i nuovi APE, sui famigerati edifici a emissioni zero, sull'obbligo per gli edifici residenziali di raggiungere la classe D nel 2033 e anche sulle sanzioni che gli stati membri devono stabilire per chi non rispetta la direttiva. Punto di discussione aggiunto proprio oggi. Non sarà un confronto semplice, l'escamotage della discussione notturna fino al raggiungimento di un accordo si spiega di fatto con la necessità dei promotori della direttiva di chiudere velocemente la partita, per il timore che un'altra maggioranza possa ridiscutere le PBD nella prossima legislatura, con un approccio evidentemente meno ideologico, più realistico e di buon senso, che tuteli non solo l'ambiente ma anche i cittadini, le imprese ed il mercato. Il rischio è che la settimana prossima venga sottoscritto un accordo frutto più della stanchezza che della condivisione. Sarebbe quindi gravissimo considerato che questa direttiva avrà ripercussioni profondissime sul tessuto sociale europeo per i prossimi decenni. In questo frangente così delicato stiamo lavorando per una revisione del testo che mantenga l'ambizioso obiettivo di efficientare gli edifici e risparmiare energia, ma che sia compatibile con il patrimonio edilizio italiano, che non gravi eccessivamente sulle finanze pubbliche, che non colpisca i proprietari di casa e le famiglie italiane e naturalmente che non deprima il nostro mercato immobiliare. È un mercato che è stato capace di superare la crisi post-covid, ma che oggi ha le prese con diversi problemi che frenano la crescita e non ha bisogno di dover fronteggiare nuovi ulteriori ostacoli. Vi ringrazio quindi per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento. Buona giornata!